... Mister Gioia, un'ausonia che ci ha provato, in dieci per quasi un'ora non era facile, avete saputo sfruttare al meglio le occasioni concesse dal Pomezzi nel secondo tempo, però non è bastato. Io dico, un'ausonia veramente bella, se si considera che fino all'espulsione di Quirino, se non vado in rata, siamo andati o quattro o cinque volte davanti alla porta da soli, e contro queste squadre così importanti è chiaro che poi non fare gol diventa difficile, poi dopo che siamo rimasti in dieci è iniziata tutta un'altra partita, ci siamo messi a tre dietro, è chiaro che poi la loro qualità è venuta fuori, consideriamo pure il fatto che magari sul primo gol abbiamo fatto un errore di valutazione nostra, quindi da lì è diventato ancora più difficile, però faccio i complimenti ai ragazzi perché veramente sono rimasti in partita per tutta la gara, quindi contro una buonissima squadra, quindi oggi usciamo con tanto rammarico dal campo, ma con la certezza di avere a disposizione un grande gruppo. Forse è questo lo spirito che una squadra secondo lei dovrebbe sempre avere, al di là delle situazioni, inferiorità, patente da numerica che sia? Sì, ma questo è il mio motto da sempre, a me nel calcio sia da giocatore che da allenatore non mi ha mai regalato niente nessuno, quindi non vedo per quale motivo noi dovremmo fare questo con gli altri, loro hanno vinto meritatamente, o meglio, l'hanno conquistata sul campo, poi sul fatto se sia meritata o meno, questo lasciamo alla gente che si è vista la partita fare delle conclusioni, però ripeto, usciamo dal campo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, perché per gran parte della partita siamo stati in gestione, poi ripeto, in dieci diventa difficile e inizia tutta un'altra partita. Una Sonia che matematica alla mano non dovrebbe aver conquistato ancora l'aritmetica salvezza, però diciamo che facendo tutti gli scongiuri del caso, una Sonia che comunque già può giocare con relativa serenità. Questo sicuramente è il vostro lavoro ed è giusto che sia così, io invece dico che l'insieme a Sonia si è salvata con nove giornate di anticipo, perché 42 punti sono tanti e sicuramente bastavano 42 punti, ne abbiamo 45, mancano ancora tre partite, quindi non parliamo di salvezza perché altrimenti andiamo a svalutare il lavoro che hanno fatto questi ragazzi durante la stagione e non è giusto, perché veramente tra tante difficoltà, la prima esperienza in eccellenza, fare un campionato del genere e parlare ancora di salvezza mi sembra veramente poco carino nei confronti del gruppo. Prossima partita a Casalbarriera, a questo punto le ultime tre gare verranno giocate per tentare di alzare a questo punto sempre di più possibile l'asticella di questo rendimento in termini di punti. Sì, ma noi adesso andiamo mercoledì a Casalbarriera, volendo fare la nostra buona partita come abbiamo sempre fatto, poi è chiaro che a volte ci riesce bene, a volte un po' meno, e quindi poi ecco, sembra che magari qualcuno adesso ha regalato la partita e invece adesso te la sei giocata, no? Noi partiamo ogni volta per cercare di fare bene, poi capita ecco la partita di Pleur in casa che non è andata bene, l'abbiamo sbagliata totalmente, abbiamo fatto male, la partita contro la Nagna abbiamo perso 1-0, ma abbiamo preso gol su una palla da fermo e abbiamo rischiato solo su palle da fermo, quindi loro sono primi in classifica, se si vanno a vedere la partita non mi sembra che la Usonia sia stata messa sotto dalla Nagna come oggi nemmeno dal Pomezia, noi andiamo avanti per la nostra strada sapendo che comunque abbiamo tanto da migliorare anche in prospettiva, ma sapendo che comunque partiamo da una base molto molto importante.